Domani prendono il via i lavori di cantieramento per la ristrutturazione del nidorco baleno di Borgo San Giovanni, con il montaggio della gru a torre sul confine est. I lavori consistono nel rifacimento di tre falde del tetto, compresa la posa del materassino coibentante con guaina impermeabile, la sostituzione dei coppi e la posa della nuova latoneria. All'interno saranno rimosse le vecchie pavimentazioni sostituite con un nuovo pavimento in gomma, adatto per i bambini e il gioco a terra. I locali interni saranno dipinti con tonalità decise con il personale responsabile del servizio nido, in modo da evitare colori che possano disturbare i piccoli utenti. Nel giardino esterno sarà demolito e realizzato un nuovo gazebo in legno ombreggiante, adatto per le attività all'aperto. Nel contempo saranno sistemate le recensioni perimetrali e sfoltite alla siepe sul confine est. Nel contempo targe pall Gambo Nel contempo targe pallone Grazie a tutti.